Sono Gianfranco Torelli, titolare dell'azienda agricola Vini Torelli di Bubbio. Sono dalla quarta generazione, coltivo vigneti e trasformiamo le uve nella nostra cantina di Bubbio. Particolarità della nostra azienda è che dal 1987 coltiviamo tutti i nostri vigneti con metodo di agricoltura biologica e nel 1992 il nostro Moscato d'Asti è stato il primo vino certificato bio in Italia e l'autorizzazione è stata proprio la 000001 del gennaio 1993. Questa storia è stata raccontata in un libro che si intitola La storia fumetti del primo vino biologico. È stato interamente illustrato dal cartoonist Robi Giannotti, matita storica della Gazzetta dello Sport per 17 anni e in questo libro raccontiamo la storia geologica della nostra zona, la storia a partire dalla prima civiltà, i Liguri Stazielli con la loro capitale Caristum nell'odierna acquiterme nel 2000 avanti Cristo fino all'arrivo nel 73 avanti Cristo da parte degli antichi romani e avanti tutta la storia medioevale fino arrivare a Cavour e quindi la nascita della piccola proprietà contadina. La storia della nostra famiglia in realtà è comune a molte aziende agricole del Piemonte e quindi i miei bisnonni alla fine dell'ottocento sia in linea materna sia in paterna acquistarono quelle vigne che hanno lavorato per generazioni come mezzadri e quindi hanno anche realizzato quel sogno del possesso della terra che li ha portati ad essere piccoli viticoltori, la piccola proprietà contadina. Noi abbiamo continuato questa tradizione, abbiamo messo insieme le due aziende di mamma e papà e quindi oggi coltiviamo 14 ettari di vigneto con uve Moscato, Bracchetto, Dolcetto, Barbera e poi alcune incursioni francofone, Chardonnay, Merlot e Pino Nero dai quali otteniamo i grandi vini della nostra zona quindi il Moscato Canelli di OCG, l'Alta Langa di OCG, il Nizza di OCG, Barbera d'Asti, Dolcetto d'Asti, Piemonte Spumante e via dicendo. Quindi una piccola azienda agricola, produciamo circa 100.000 bottiglie all'anno che distribuiamo dal Giappone al Canada in maniera piuttosto diffusa su tutto il continente nord. Quindi qui abbiamo tutta la storia geologica a partire da 200 milioni di anni fa quando in realtà qui eravamo un abisso oceanico e andare avanti periodi di riscaldamento della Langa, il periodo in cui si è chiuso lo stretto di Gibilterra quindi il Mediterraneo è rimasto un grande lago che poi è evaporato e poi circa 5 milioni di anni fa il ritorno del mare e quindi la balena che è stata ritrovata qui a Montegrosso d'Asti, periodi di alternanza caldo-freddo quindi tutte le ere glaciali fino ad arrivare all'ultima glaciazione circa 20.000 anni fa e con l'ultima glaciazione terminata poi 10.000 anni fa e qui la prima civiltà i Liguri Stazielli, Belin 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 Belin. E dopo il periodo dei Savoi arriviamo al periodo di Napoleone e quindi anche l'arrivo delle idee di libertà, uguaglianza e fraternità che sono stati poi un pochettino alla base di quella che era il sogno degli agricoltori di arrivare poi al possesso della terra. Possesso della terra che si arriva poi con la riforma agraria di Cavour e proprio in questo periodo i miei bisnonni in linea materna e in linea paterna hanno iniziato a coltivare vigneti e qui da noi a Bubbio. Moscato d'Asti, questo è stato impiantato nel 1980 e quindi questo è uno dei vigneti che dal 1987 viene coltivato con metodo di agricoltura biologica. Quest'anno la coltivazione della vigna ha risentito parecchio di quello che è stata un'annata dove il cambiamento climatico si è fatto sentire in maniera più importante. Noi siamo una regione dove normalmente scendono 700-800 mm di acqua all'anno. Ad oggi e quindi oltre ferragosto da noi sono scesi 270 mm di acqua, quindi una quantità decisamente bassa. Ciò che sta salvando la viticoltura, nell'annata 2022 sono i temporali estivi, soprattutto fine luglio e inizio agosto, che hanno interessato la nostra zona. La vicinanza con le Alpi probabilmente ci ha ancora salvato una volta e quindi la produzione sarà inferiore di circa un 10% ma abbiamo comunque una buona qualità. Tuttavia dobbiamo analizzare con attenzione tutto quello che è il cambiamento climatico in atto. Io sono della classe 1967, negli anni 70 ho iniziato con i miei genitori ad andare nelle vigne e ricordo l'inizio della vendemmia per il Moscato ed era all'inizio di ottobre. Ancora all'inizio degli anni 80 la vendemmia del Moscato si partiva verso l'inizio di ottobre. Il primo ottobre cominciava la scuola e si cominciava la vendemmia del Moscato. Poi pian piano abbiamo iniziato quello che è stato l'anticipo e all'inizio anche curioso perché abbiamo iniziato verso fine settembre, metà settembre, ricordo bene il 97 è nata mia figlia, abbiamo cominciato l'8 di settembre fino ad arrivare il 2003 che è stata la prima annata dove abbiamo toccato con mano quello che il cambiamento climatico voleva dire per le nostre zone. A ferragosto le uve erano mature. Da allora ad oggi la maggior parte dell'annata abbiamo cominciato proprio alla fine di agosto, un anticipo quindi di oltre un mese in un arco temporale brevissimo, solamente 40 anni. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che comunque lavorare la vigna nel 2022 non è più come lavorare la vigna 40 anni fa, quindi dovremo effettuare lavorazioni che prevedono meno defogliazioni, dovremo effettuare operazioni come le cimature in maniera più attenta e la chinatura della parte aerea della vite. In questo caso è stata effettuata nel secondo controllo della vegetazione proprio per evitare di stimolare la pianta ad avere un'eccessiva bisogno di acqua. E poi la gestione del suolo. Questo è un vigneto inerbito naturalmente, l'erba è stata tagliata più volte. Ecco questa erba che noi troviamo tagliata sul terreno favorisce l'aumento di sostanza organica nel terreno. Più sostanza organica, più vita nel terreno, più capacità del terreno di resistere a quello che sono i dilavamenti quando arrivano queste bombe d'acqua nei temporali estivi, maggiore capacità del terreno di ritenere l'acqua. Ecco quindi l'importanza di un'agricoltura che deve essere sempre più attenta all'ambiente ma sempre più ragionata anche in funzione dei cambiamenti climatici. Ecco questo è l'atto di accordo tra mio nonno e suo fratello per l'utilizzo della sorgente che abbiamo qui in cantina e questo lo trovo molto interessante perché è un segno chiaro di come l'acqua in un periodo in cui ricordo piovevano 800 millimetri di acqua all'anno ma era considerato un bene prezioso. Con l'arrivo delle sorgenti e quindi dell'acquedotto abbiamo dimenticato l'importanza del raccogliere le acque piovane, del creare dei bacini di raccolta, di mantenere i pozzi rurali e abbiamo trattato l'acqua come un bene che comunque era a disposizione semplicemente pagando la bolletta dell'acqua. Ma non è così, noi dobbiamo ripartire da quella che è stata la storia dei nostri avi e quindi riconsiderare l'acqua come un bene essenziale e fondamentale e ripartire a recuperare tutte le acque per il corretto utilizzo. Pensate che in una cantina come questa per ogni litro di vino che viene prodotto si consumano da 1,5 a 3 litri di acqua ma i dati dell'Associazione Enology dicono fino a 5 litri di acqua per litro di vino prodotto. Questo vuol dire che è necessaria una grandissima quantità di acqua e quindi l'acqua è un bene prezioso e come tale va considerata. Siamo all'interno del mio impianto di fitodepurazione. L'impianto di fitodepurazione di fatto è una piscina in questo caso è 20 metri per 15 profonda un metro e mezzo all'interno del quale vengono posizionate le pietre e un sistema di drenaggio di arrivo delle acque di uscita delle acque. Acque che vengono purificate grazie al passaggio tra le pietre e le radici di queste piante che sono piante che sono in grado di fitodepurare le acque e quindi abbattere la sostanza organica all'interno delle acque. Le acque refluide di cantina sono rifiuti pericolosi e una volta fitodepurate invece possono essere reimmesse in natura. Noi quindi blocchiamo l'acqua che arriva dalla collina attraverso la nostra solgente, integriamo con l'acqua dell'acquedotto per fare i lavaggi di tutta la cantina, fitodepuriamo tutta l'acqua che così arriva pulita sui corpi idrici superficiali.